E abbiamo in connexione con la visita di parecchi real per due giorni. Abbiamo informato che è differente. Il cammino è un po' di più che sarà. Ma oggi abbiamo anche un po' di più policiali che ha dato un informe di tour e cairi che non hanno accesso. È dependente di quello che si tratta. La ruta è un po' di più che sarà e così evitare la congestione di tráfico. Abbiamo dato un informe di Saki. Abbiamo anche un po' di più che è 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 un po' di più. Il cammino è un po' di più che 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 è un Traffico vieno di Prysmart, te guardo desviare via Rontwerg. Fondland te guardo sarà parcialmente fuor di che torte con il nuovo AM, di Maida. Fuor di Rotondo, Banco di Caribe, tengo George Maduro Strat, e fuor di Shakespeare Strat, tengo Rotondo, Asamérica. Segui andando per Munchananku, también con bus, per barra e parisiana, e Royal Jump-Up. Fondland, lo guardo sarà mescos, fuor di gesnore di Maida, tengo un nord di Atmerdilla. Pa' trobe, Buestan passa a Busquemunchananku. Esiguiente caeran, e area di Stadion, también, togara sarà, per lote accesibili, non forma limitata. Segui da Basen Strat, Kiberi Strat, Stadion Plain, Bujon Strat, George Maduro Strat, Shakespeare Strat, Sepp Lamper Strat, Quart Strat, Jagwebs, Gesnore Maida, pa' un nord di Maida, Museo Archeologico. Schelp Strat, togara sarà, pa' tráfico di ambas direzioni, fuor di cruzare di Ema Strat, tengo cruzare di West Strat. V Strat, togara sarà, di cruzare di Ima Strat, tengo cruzare di Schelp Strat. Ima Strat, togara sarà, di cruzare di V Strat, tengo Ema Strat. Adicional, pa' automobilista, ponen attenzione, bebaricada, ponen d'or di DOE. comienzo. Ange